L'obiettivo è riprendere dopo la lunga pausa e provare qualche giocatore che non ha ancora avuto chance con i ragazzi del 2002 e vedere anche i ragazzi del 2004 e addirittura del 2005, vedere loro e vedere come sono in prospettiva questo lupo qua. Abbiamo paura di questa cosa, anche dubbi come fare allenamenti, però li abbiamo trovati molto bene. I ragazzi già dopo qualche giorno si allenano, non dico quasi normale, ma 70-80% di loro possibilità. Sono giovani, li prendono in fretta, però si vede che molti hanno lavorato anche a casa, hanno fatto lavori specifici per il fisico e sono venuti in forma, più che in forma. Immagino anche da un punto di vista della voglia li avete ritrovati in carico. Sì, sì, hanno tanta voglia, vogliono fare allenamenti sempre, anche quando c'è pausa sono vogliosi di fare allenamento. Siamo molto contenti di loro, come si comportano e come si allenano. Naturalmente agli europei ci pensate. Sì, ci pensiamo, sono a gennaio, si giocano in Slovenia. Abbiamo un girone tosto, ma sono tutti tosti, però io sono fiducioso. Penso che possiamo fare un buon risultato. Sessione no, ho grande voglia, grande voglia di far vedere quanto valiamo e di affrontarsi finalmente con il nazionale di primo livello. Grazie a tutti.